Interrompa l'intervista a Telereggio la prossima volta, o alla Gazzetta di Reggio. Io sono qua per lavorare, non posso fermare una persona, mi devo sentire dire con centomila persone che deve andare via, ma non si vergogna. Volevo ringraziarla perché a me ho fatto il video. Senta, ascolti, è già la seconda volta che mi ringrazia. A me mi hanno detto che di qua possono uscire solo gli artisti. No, i giornalisti quei tre li hanno fatto passare, li hanno detto di no, mi dispiace. Gli altri si vede che mi hanno detto di fare gli scelti, non dipende da me. Io sono un giornalista, più dei tre che sono passati. Io sono professionista. E gli altri hanno detto di non far passare nessuno, mi spiace. Lo fa apposta. Qualcuno lo fa apposta. No, io. Dieci minuti, venti minuti prima ho fatto il video. Io eseguo e basta. Gentaglia, notte e giorno, idioti patentati.